ciao lettori elettrici di mamma style e benvenuti in un nuovo video preparare una crostata è sempre un'ottima idea soprattutto in questi giorni d'inverno il suo contrasto tra il guscio esterno e il morbido ripieno interno è decisamente il suo punto di forza è proprio per questo che noi oggi di mamma style vogliamo mostrarvi una versione davvero golosa sarà il giusto mix tra croccantezza, dolcezza e cremosità sto parlando della crostata ricotta e gocce di cioccolato vediamo insieme gli ingredienti e i vari passaggi aggiungete all'interno della planetaria tutti gli ingredienti quindi la farina lo zucchero le uova il burro e un cucchiaino di lievito per dolci mescolate tutto fin quando non avrete ottenuto un panetto liscio ed omogeneo a questo punto avvolgetelo nella pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigo per 30 minuti quindi Grazie a tutti. Per preparare il ripieno mettete la ricotta e lo zucchero in una planetaria e mescolate il tutto. A questo punto unite l'uovo e il liquore. Lavorate fin quando avrete ottenuto una crema liscia. A questo punto potete aggiungere le gocce di cioccolato fondente. Riprendete ora il panetto di frolla, stendetelo su un piano infarinato e conservatene una parte per le strisce. Grazie. Una volta adagiato la pasta frolla nello stampo, versate il ripieno e dopo averlo livellato mettete le strisce di frolla. Grazie. 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 Grazie.